Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui il vostro Ale Lorenzi e oggi sono davvero felice di portare questo contenuto sul canale perché voglio raccontarvi ben tre lezioni che ho imparato da Gary V, personaggio pubblico, imprenditore e persone che ho incontrato recentemente per cui mettetevi comodi e soprattutto se tematiche come il marketing, il business online, l'imprenditoria vi piacciono iscrivetevi al canale perché questo è il canale che stavate cercando allora chi mi conosce lo sa, mi piace formarmi da tutto il mondo, principalmente dagli Stati Uniti, Canada, Inghilterra e frequento diversi mastermind ed è proprio in un contesto di mastermind che recentemente ho incontrato Gary V vi lascio qui qualche informazione su di lui, sicuramente l'avete già visto, sicuramente sapete chi è magari qualcuno non ha social nome con l'immagine per cui vi metto qua qualcosina allora proprio in questo contesto di mastermind ho incontrato Gary V di persona, ha tenuto una Q&A super super interessante perché le domande che gli sono state poste erano di qualità e appunto dalle sue risposte mi sono portato a casa tre lezioni importantissime, la più importante ovviamente la tengo per ultima per cui assicuratevi di guardare il video dall'inizio alla fine e soprattutto se questi contenuti vi piacciono, beh, distruggete il pulsante di like qua sotto prima lezione che mi sono portato a casa da Gary V è essere costante e soprattutto essere dappertutto in parte questa cosa un po' già la sapevo perché chi mi segue mi sente spesso parlare di ecosistema di essere presente su più piattaforme, di essere proprio presente dappertutto in modo tale da riuscire ad arrivare a più persone a più potenziali clienti, quindi magari per fare degli esempi pratici essere presenti su Instagram essere presenti su YouTube, essere presenti con un blog eccetera 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 ecco Gary V deve gran parte del suo successo all'essere presente dappertutto cioè sfruttare ogni social, ogni piattaforma, ogni possibilità che il web presenta e ad oggi non solo più il web per cercare di arrivare a più persone possibili e questo dal mio punto di vista è un aspetto importantissimo se non fondamentale perché come più volte ho anche portato qui all'interno del canale motivo per il quale vi invito a iscrivervi nuovamente se ancora non l'avete fatto essere presenti su più piattaforme sarà sempre più importante perché l'utente è sempre più sveglio più scaltro dopo la pandemia ed effettivamente cerca tantissime informazioni qua e là per farsi un'idea su qualcuno ed ecco che se vi vede ad esempio su Instagram, se vi vede ad esempio su TikTok per fare due esempi a caso vi dà una maggiore fiducia e si fiderà di più di voi ovviamente bisogna avere una strategia eccetera eccetera quindi non fare le cose a caso ma primissimo punto da portarsi a casa è quello di cercare di essere presenti con un ecosistema dappertutto seconda lezione dal mio punto di vista molto importante e questa mi è piaciuta un sacco sentirla perché già mi caratterizza, fa parte del mio carattere quindi è stata tipo una riconferma che sono sulla strada giusta muoviti velocemente, fai azione in modo veloce, non tentennare, non farti prendere dalla paura, non rimandare cerca di fare le cose velocemente senza appunto timori, paura di fallire, paura di che caso ne so io dell'ignoto di come vanno le cose ma cerca di fare 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 più che puoi in primis perché ogni volta che fai azione comunque ti sposti dal punto in cui ti trovi quindi ovviamente se tu hai un goal, se tu hai un obiettivo facendo letteralmente azione riesci ad andare più avanti, riesci ad ottenere più risultati e questi ovviamente possono essere positivi quindi possono effettivamente elevarti oppure possono essere anche risultati depotenzianti o meglio magari fallimentari perché magari lavori in modo molto attivo a un progetto ad esempio però le cose non vanno come vorresti tuttavia attenzione proprio perché ci siamo mossi velocemente riusciamo ad ottenere feedback quindi capire che cosa è andato, che cosa non è andato e poi effettivamente migliorare quella che è la nostra strada verso il successo quella che è la nostra strada verso il goal quindi è fondamentale muoversi veloci, non lasciarsi prendere dalla paura cercare di fare azione il più velocemente possibile indipendentemente che poi questa sia di successo perché effettivamente produce un output di successo oppure magari si trasforma in un fallimento però comunque a quel punto avremo comunque imparato qualcosa terza e ultima lezione ma se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale lasciate un like perché stanno arrivando altri contenuti succulenti proprio qui, 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 qui su youtube terza lezione investi il più possibile ovviamente attenzione bisogna pianificare un budget da investire a volte si può andare all in altre volte è meglio magari forzare il risparmio ma investi il più possibile secondo le tue possibilità questo perché l'unica cosa che puoi comprare è il tempo e le competenze a volte si puoi acquisire tu le competenze magari io voglio diventare un super esperto di SEO quindi mi compro il corso piuttosto che i libri eccetera eccetera mastermind eccetera eccetera però quell'acquisire una competenza a volte mi richiede troppo tempo in funzione di quello che è il mio obiettivo cerco di spiegarmi meglio in modo che sia chiaro possibile io prima di delegare qualsiasi cosa ovviamente prima cerco di avere quantomeno un'infarinatura ma cerco quantomeno di capirla al 100% proprio per riuscire a delegare qualcosa che poi effettivamente io capisca ok quante volte magari arrivano anche persone in consulenza da me si sono affidati ad agenzie senza effettivamente nemmeno sapere come funziona il web e ne sono rimasti veramente veramente scottati cosa tra parentesi di cui mi dispiace sempre tantissimo comunque al di là di questo la cosa importante è quindi capire prima che cosa vogliamo delegare ma poi di qualità ovvero abbiamo il tempo per approfondire quella competenza in modo tale da padroneggiarla molto bene e siamo disposti a pagare quel tempo con il nostro tempo e quindi poi non mi altererà il risultato cioè non mi allungherà nel raggiungimento dei miei obiettivi oppure è meglio delegarla perché un minimo la padroneggio capisco di che cosa stiamo parlando e mi serve andare più velocemente entrambi i casi sono buoni ovviamente sempre in funzione di quello che è il vostro obiettivo perché magari avete un obiettivo su tre mesi e capite che dovete fare un corso di nove mesi è giusto interrogarsi se siamo disposti a sacrificare nove mesi per poi acquisire quella competenza o se viceversa abbiamo già ottenuto una buona infarinatura capiamo di che cosa stiamo parlando e possiamo provare a delegarlo l'importante è essere propensi all'investimento per potenziare i risultati per potenziare poi quello che è il raggiungimento verso il nostro goal quindi non aver paura del oddio non ho soldi oddio non so come fare ma piuttosto dire mi ritaglio questo budget mensilmente annualmente eccetera eccetera e lo vado effettivamente ad allocare in un piano di formazione o in un piano di delega per cercare di raggiungere più risultati possibili quindi proprio qui c'è uno switch mentale e questo spesso nella nostra società è un po' difficile da attuare perché magari noi siamo un po' più conservatori, un po' più risparmiatori gli americani invece sono molto più propensi all'investimento con tutti i pro e i contro, i nostri, i loro eccetera eccetera ma quello che ci dobbiamo portare a casa da questo punto condiviso da Gary V è proprio il fatto di dire ok voglio raggiungere un obiettivo investiamo ovviamente il tempo è l'unica moneta che non mi torna indietro quindi quando posso cerco di massimizzare il risparmio del tempo per ottenere comunque un output soddisfacente queste tre lezioni a me sono piaciute tantissimo ci tengo anche a precisare che Gary V è una persona super squisita dal mio punto di vista ha confermato letteralmente la persona che noi vediamo sui social ogni giorno io personalmente lo seguo ed è super super attivo quindi è stato per me un enorme piacere incontrarlo scambiarci due parole e assistere a questa Q&A spero che questo video di valore vi sia piaciuto fatemelo sapere con un commentino qui sotto ci vediamo nel prossimo Dalle Lorenzi è tutto ciao guys